Ehi! C'è nessuno? Ferry! Ferry, dannazione! Salve, posso aiutarvi? Cerchiamo articoli per feste, ma non del genere esposto. Che cosa intende dire? Vede, noi produciamo i nostri articoli. Sì, guardatevi pure in giro. Abbiamo le bombole di Elio in saldo. Ehi! Ho avuto l'indirizzo da Ricky Mertens. Può essere. Non conosco il nome di tutti i miei clienti. Conosci Ferry Bauman? Perché io non mi faccio certo fregare da una bambolina che non sa nemmeno con chi ha a che fare. Vai dal tuo capo e digli che Ferry Bauman è qui per affari. Hanno chiesto di parlare con lui. Da questa parte. Ho avuto l'indirizzo da una bambina che non sa nemmeno con chi ha a che fare. No, non mi faccio. O che vuoi? No, non mi faccio. Ho avuto l'indirizzo da un'indirizzo da un'indirizzo da un'indirizzo. Ho avuto l'indirizzo da un'indirizzo. Grazie.